buongiorno a tutti sono davide pogliani di rock call e questa è la terza puntata di cante autore un format di bmg e rock call dedicato alla figura degli autori oggi siamo qui con fabio e l'acqua buongiorno fabio grazie di essere qui con noi grazie a voi fabio volevo partire con una tua foto che è questa qua si ti ritrae seduto nel tuo studio e c'era un paio di cose che ti volevo chiedere innanzitutto dietro di te c'è una enorme libreria ed è curioso perché in genere in studio si tengono più strumenti che servono alla creazione musicale invece tu hai voluto tenerti vicine le parole e soprattutto io poi ho guardato questa libreria perché ho ingrandito con lo zoom e ho visto un po i titoli che hai sulla tua libreria e mi interessava capire come è nata la geografia della tua libreria ad esempio hai il vasari che immagino sia retaggio dei tuoi studi abbrera di un tempo in basso poi hai carte da decifrare di ivano fossati vicino a un volume di parole canzoni hai un volume dei vuming hai le opere omnie di sasce pirandello un piano sotto quelle di pasolini e come è nata questa logica mi sono preparato ma come è nata è nata in maniera assolutamente casuale nel senso che io da quando ho cominciato a leggere si parla di ormai del secolo scorso ho cominciato a raccogliere questi libri e alla fine poco la volta li ho distribuiti diciamo per a volte per genere a volte per nazionalità quindi sotto come giustamente dici c'è tutta la parte artistica quindi ci sono le monografie di pittori c'è il vasari eccetera nella parte destra c'è tutta la parte dedicata alla poesia e poi ci sono tutti i vari romanzi poi lì non si vede a sinistra c'è tutta un'altra parte con i saggi e sono più legato alla letteratura che alla musica in realtà non sono un grande ascoltatore di musica e forse si sente no beh ho visto che però la colonna dei cd è molto più piccola rispetto a quella dei libri nella foto sì perché in realtà ascolto pochissima musica poca e sempre la stessa mi piace di più leggere è una cosa che l'idea di poter immaginare quello che quello che leggo attraverso i libri attraverso la penna dello scrittore mi appassiona di più è più vicino al mio gusto ma tra lato il diciamo che il pubblico generalista se ne accorto quando per occidentali scarma sono arrivati i complimenti di desmond morris e lì è stata una manifestazione di come un bagaglio culturale possa anche servire per scrivere canzoni di sanremo quindi popolari ma secondo te esiste ancora il pregiudizio vecchio stantio della divisione tra cultura alta e cultura bassa e secondo te ci sono artisti che un po ci giocano esempio metto dentro una citazione colta per darmi un tono allora la divisione tra cultura alta e cultura bassa esiste io personalmente non ci credo è un po quello che si faceva con con le espressioni artistiche no che si parlava della pittura della musica eccetera i vari le varie modalità insomma di espressione per me esistono grandi grandi interpreti grandi artisti e ci può essere un grande un grandissimo interpreto un grande artista che diciamo lavora in quel range che è considerato cultura bassa ad esempio nella musica nazional popolare oppure ci sono piccoli artisti che magari fanno musica classica quindi non significa nulla secondo me questo per me conta l'individuo e quello che hai quello che hai da dire la cultura in sé conta ma non solo per la musica conta per tutto è una chiave di lettura che ti permette di leggere il mondo in maniera più più approfondita e quindi di capire meglio te stesso perché poi alla fine questo è il discorso non è tanto dare un messaggio nessuno deve stare dietro una cattedra ma semplicemente si tratta di capire meglio chi sei e quindi di conseguenza capire meglio anche gli altri tutto qui secondo te una cosa che manca nella musica di adesso appunto questo bagaglio che serve per decifrare allora manca e manca lo si sente soprattutto in certi generi musicali dove ad esempio si fanno giochi di parole oppure si utilizzano gli slogan che un po un linguaggio mutuato dalla pubblicità quindi rappresenta un pochettino la l'abbassamento della musica a prodotto commerciale cosa che secondo me non dovrebbe accadere anche perché la musica alla fine dovrebbe essere un elemento per capire meglio la vita non per come dire per integrarsi o per vendere non dovrebbe essere così almeno secondo me senti parlando dei tuoi lavori passati più precisamente adesso quello che ti sto dicendo l'avevi dato a proposito di ballata del dopo cena hai detto di trovarti il 99 per cento delle volte insoddisfatto di quello che hai fatto il tuo tasso di insoddisfazione è sempre rimasto quello o è variato e ti chiedo ti preoccuperai quando il tasso scenderà ti doverai essere magari più indulgente con te stesso allora il mio tasso di insoddisfazione se possibile è addirittura aumentato stiamo parlando di decimali ormai sì 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 però è giusto che sia così a me non interessa una volta che ho finito la canzone onestamente non mi interessa più non la riascolto quasi mai quello che mi interessa è il percorso perché quel percorso alla fine mi sembra che sia una specie di ricerca quasi archeologica ecco quindi in questo senso non non penso che raggiungerò mai questo non si può mai dire il punto in cui sarò completamente soddisfatto posso essere più o meno soddisfatto però l'insoddisfazione poi è la molla che ti permette di di continuare a fare ricerca di continuare a sperimentare sul linguaggio che poi penso che sia la cosa più più importante ma anche più divertente più soddisfacente ma questa attenzione e passione per il percorso di costruzione ce l'hai anche quando ascolti o è una cosa che riguarda solo le cose che scrivi tu ma no in realtà è una cosa che che c'è anche quando ascolto nel senso che nel momento in cui ascolti immagini già come poter utilizzare certe cose filtrandole chiaramente col tuo modo di averle ascoltate capite eccetera poi nel lavoro che andrai a fare che pensi di poter fare quindi c'è sempre diciamo questa questa questo approccio insomma il tuo primo successo in carriera è arrivato nel 2016 con amen successo in carriera dai non usiamo parolone diciamo il tuo primo pezzo importante che ha raggiunto un grande pubblico arrivato nel 2016 appunto con amen quando avevi 40 anni che qua ci sono un paio di cose che mi piacerebbe affrontassimo il primo è il successo chiamiamolo tardivo che oggi sembra una bestemmia laica no perché è passata quella filosofia anglo americana del go big or go home poi vedi pensa anche alle dichiarazioni di danielek sulla produttività degli artisti del fare un singolo ogni tre mesi eccetera eccetera il secondo è l'affresco che tu hai dipinto in quella canzone tu avevi detto che stavi che scribacchiavi da circa otto anni poi nel 2015 è arrivata questo questa opportunità e hai dipinto questo affresco ecco come è nato cioè cosa c'è dietro allora beh amen è nata è nata anche lì casualmente come ci stavamo dicendo prima fuori nel senso che c'era una conoscenza che all'epoca per me era non era una conoscenza erano sconosciuti si chiama patrizio simonini e poi con il quale siamo diventati amici fonico insomma una bella persona che praticamente riceveva a mia insaputa dei provini che io mandavo all'epoca a francesca barone che erano poi un'altra amica eccetera e un giorno mi chiamò mi disse insomma mi piacerebbe che tu facessi parte del nostro team di lavoro per me io non ho mai fatto nulla quindi come come dicevi tu io continuavo a lavorare cercavo di sempre di disciplinare il lavoro però alla fine non avevo nessun tipo di contatto e dopo forse un mese così mi ha parlato di francesco gabbani e abbiamo cominciato a lavorare a distanza via skype ogni tanto ci sentivamo eccetera e quando lui mi ha mandato questa questo strumentale è venuto fuori insomma questo questo brano di amen c'era un'idea iniziale già di francesco nella parola di usare la parola amen da qualche parte ne avevamo già discusso e poi ho cominciato a scrivere questo pezzo e da lì poi è cominciato tutto in maniera quasi fantastica non so come dire inimmaginabile per me all'epoca ed era un po era già appunto un po di anni che facevi questo lavoro ma non ti eri mai spinto diciamo a una soglia di notorietà così ecco ma soprattutto scusami non avevo mai scritto per altri cioè per me l'idea di scrivere per altri era impensabile non mi era mai passato per la testa che è stato veramente casuale ed è stato interessante anche perché c'è la possibilità di immaginare come una canzone possa essere indossata da un'altra persona quindi come come ho già detto in altre occasioni è quasi un lavoro sartoriale no ed è interessante è molto molto bello molto divertente e questa cosa ad aver aspettato così tanto nel senso di aver non è stato un problema nel senso che non aspettandomi nulla ma facendo un percorso che per me era soprattutto un percorso personale di ricerca ma dettato soprattutto anche dal piacere di fare certe cose non ho mai inseguito l'idea di dire di diventare qualcosa o qualcuno di realizzare un progetto se non magari in giovane età in certi periodi sono con ballata del dopocene era stato così avevo fatto musicultura perché c'era quell'idea ma mai col fanatismo di dire devo assolutamente fare questa cosa assolutamente no hai covato una passione sì l'ho portata avanti e quasi quasi è lei che ha portato avanti me non so come dire cioè l'ho vissuta in questa maniera ti ha accompagnato come ti ha accompagnato mi ha accompagnato ma senza avere cioè io non ho mai avuto un metodo preciso se avevo voglia di scrivere scrivevo ho fatto un periodo di tre anni in cui non ho proprio scritto nulla mi sono dedicato ad altro perché non avevo voglia mi bastava già immaginarmi le cose no quindi non avevo la necessità di trasformare quei pensieri in un testo scritto mi bastavano così insomma tu prima quando hai parlato di scrivere per altri quindi di fare un lavoro sartoriale ecco tu dai l'idea di essere un autore che si concentra molto sugli interpreti con i quali lavora nel senso tu hai scrivi tanto per pochi interpreti diciamo guardando la tua il corpus del tuo lavoro questo mi fa pensare che tu tenga instaurare un sudalizio prima ancora umano che non artistico ecco per come lavori l'investimento emotivo è inevitabile cioè quando lo manca lo senti anche nelle altre canzoni sì per me è importante questa cosa io dico sempre che la canzone non è così importante è il risultato di un rapporto umano quando riesco a instaurare un rapporto umano con qualcuno e di solito lo chiedo addirittura incontriamoci troviamoci a bere una cosa insieme mi racconti allora per me è molto più facile scrivere proprio perché conosco il substrato conosco un pochino un pezzettino del del vissuto della persona che poi andrà a cantare il brano quando non è così ho la sensazione infatti cerco di evitare di scrivere come come uno che mette viene questo esempio la carne sul bancone dell'esse lunga perché la gente poi la prende non mi dà nessuna soddisfazione tra l'altro tu hai lavorato con artisti anche molto diversi tra loro tu per me hai citato francesco e gabbani mi viene metternella vanoni quindi per sia per stile che per età anagrafica molto differenti c'è stato qualche ci sono stati degli esempi di magari instaurazioni di rapporto umano molto veloce molto facile invece altri dove hai dovuto lottare magari combattere per instaurare un rapporto che poi ti ha dato grande soddisfazione beh ci sono stati degli esempi di rapporti nati facilmente e che sono duraturi e sono ancora vivi con ornella è stato così con con marco mengoni è stato così con altri un po meno nel senso che si si instaura un rapporto ci però magari soprattutto uno scambio di notizie un po sulla vita ecco così andare oltre non è sempre così facile però quando capita è quasi miracoloso allora liberamente cominci a a sentire quello che stai facendo per quella persona è la cosa giusta ecco non so come dire come quando conosci una persona a tanto tempo e capisci già cosa sta pensando ecco riesce addirittura ad anticiparla quindi non è sempre facile in alcuni casi però è ma va bene così è giusto che sia così come nella vita reale insomma come come quando vai al bar e con una persona ti metti al banco a berti un bicchiere di vino e in tre secondi l'hai già conosciuto e con altre persone magari ci parli cento volte ma il tuo rapporto rimane sempre a un livello superficiale quindi se un autore che ci sta ascoltando che un tuo fan ci si dovesse chiedere cosa posso fare per instaurare un rapporto con fabbio l'acqua non c'è la regola è chimica come dire senti invece passando alla tua carriera da artista da cantautore a gennaio avevi detto che la bmg ti ha più volte chiesto di realizzare un nuovo disco tuo hai ceduto stai cedendo sì sì ho ceduto ceduto felicemente ceduto nel senso che c'è questa possibilità c'è questa volontà di farlo quindi probabilmente con con l'arrivo di settembre ottobre cominceremo a mettere mano insomma a questo disco registrarlo e mi sembra una cosa è una cosa che mi mi intriga parecchio le caridi a vediamo che cosa succederà le canzoni ci sono già le canzoni ci sono già sì sì ci sono già sono già ho già preparato dei provini ho già registrato nel mio studiolo casereccio le chitarre però mi piacerebbe coinvolgere anche insomma altri musicisti vediamo che cosa succede vediamo se hanno voglia di farlo a proposito di altri musicisti tu avevi detto che non ti spiacerebbe collaborare con esponenti della scena sperimentale con stefano pilia e andrea belfi che sono abbastanza lontani potrebbero essere dei candidati a una collaborazione potrebbero esserlo loro secondo me sono molto bravi la loro ricerca musicale la trovo veramente molto quasi pittorica non so come dire ecco hanno questa caratteristica che anche per me è importante nel senso che credo che sia abbastanza ovvio che l'immagine arrivi prima nella parola che deve comunque essere decodificata in una certa maniera allora quando riesci a creare dei paesaggi sonori di quel tipo secondo me stai facendo qualcosa di interessante quindi e tra l'altro ti porterebbe credi una cosa del genere a cambiare anche l'approccio che hai tu alla composizione sicuramente certo sicuramente beh poi dopo a me mi piace mettere giù un canovaccio un'idea intessere proprio una base però poi lasciare anche liberi i musicisti di portare il loro vissuto il loro modo di suonare di immaginare quel particolare passaggio quindi sono aperto a tutto sembra quasi il lavoro di un regista quando fa lo storyboard quindi coi disegni di come pensa l'inquadratura alla fine così torniamo e torniamo al discorso delle immagini che stavamo facendo prima penso che sia la cosa più interessante più ovvia da fare anche perché se no si tratterebbe di semplicemente di riprodurre delle parti che sono già state suonate però io ho un modo può darsi che il tuo modo sia più interessante del mio più efficace e quindi è giusto secondo me assecondare ci deve essere uno scambio un confronto e lì il fertile se no diventa esecuzione basta sempre a proposito di immagini tu prima hai detto io le canzoni le scrivo poi le lascio lì le abbandoni una volta parlando di questa di questa tua modalità hai parlato di canzoni come quadri che crei e poi esponi ci puoi chiarire bene più o meno cosa cosa intendi per questo una sorta di distacco una volta che è una sorta di disinteresse che cade nel momento stesso in cui ho finito di dipingere il quadro oppure di scrivere la canzone perché ho esaurito un percorso per lo meno su quella tela su quella canzone l'idea per me che odio i live di dover riproporre per decine di volte la stessa canzone davanti a un pubblico sarebbe come ridipingere lo stesso quadro per decine di volte ed è una cosa che non fa per me non mi appartiene in questo senso ho un approccio più pittorico che che musicale quindi capisci quei quegli artisti quegli artisti gruppi cantautori che odiano talmente tanto certe canzoni alle quali si sentono condannati sì ma è come mangiare lo stesso piatto tutti i giorni alla fine dopo un po dici buono il panino con la mortadella però voglio cambiare voglio fare a no veramente proprio un è un percorso che si esaurisce e una volta che esaurito io personalmente ho bisogno proprio di dimenticarmelo e per prendere un'altra strada fare un altro percorso che mi porti da un'altra parte chi lo sa è come se tu dovessi farmi la stessa intervista per 50 volte capisci che dopo un po le stesse domande no finiremmo a parlare di sport non so di sport no però anche io non sono ferrato nemmeno io però capisci diventerebbe tedioso per te per me non è più interessante non è più interessante capisco che c'è la componente teatrale nel momento in cui tu vai su un palco per cui ti devi esibire però se uno può sopravvivere in un'altra maniera per me è meglio evitare quindi non se immagino che tu sia uno che non va nemmeno ai concerti poco pochissimo pochissimo visto pochissimi concerti che mi sono piaciuti però no a questo punto mi viene che concerti ti sono piaciuti perché voglio dire il classico esempio di pubblico molto esigente beh uno dei concerti più belli è stato petruciani bellissimo concerto meraviglioso adesso non mi ricordo se era ad arona da qualche parte comunque era una roba c'era steve gadd alla batteria in un posto immerso in un bosco addirittura una cosa veramente speciale beh poi paolo conte un concerto bellissimo che ho visto a roma di andrea vigevano ci sono stati anche altri concerti altre volte mi è capitato di andare concerti e stare tipo al forum tutto il tempo al bar del forum perché mi perché mi rompono le balle che tratto non è che sia anche il bar del forum però è sempre un bar nell'immaginario ma sempre è sempre un posto più più raccolto più accogliente sì sì e poi c'è la birra e poi c'è la birra anche se non è un granché quella birra lì attenzione abbastanza annacquatella esatto però diciamo in mancanza d'altro va bene anche quella birra senti torniamo alla storia recentissima hai arrangio il tuo credo prima almeno che io sappia però potrei sbagliarmi unico lavoro da arrangiatore che hai fatto è stato sull'album unica di ornella vanoni prodotto da mauro pagani tra l'altro nel quale tu hai duettato sulla canzone la mia parte ecco cioè questo duetto può essere considerato una specie di punto di sintesi della tua carriera da cantautore la tua carriera da autore no nel senso che la mia il mio lavoro di cantautore anche questa è una parola che però dobbiamo usare questa è abbastanza diverso lì è nato anche lì è nato abbastanza casualmente nel senso che la mia quella quella quel mio intervento in quel brano era pensato quasi come un intervento corale che doveva stare di sottofondo poi dopo alla fine è venuta fuori questa cosa per me è stato un piacere però poi il mio lavoro come scrittore di canzoni per me è un po diverso rispetto a quel mondo sia a livello arrangiativo che a livello testuale un pochino diverso però d'altra parte quando scrivo per me sono molto più libero no quindi anche se anche anche in quel caso lì sono stato libero di scrivere bene o male quello che volevo però giustamente devi scrivere per una persona che deve interpretare un pensiero che condivide quindi c'è sempre un vincolo io dico sempre che è un po come nella nella pittura del cinquecento no cioè il pittore aveva un un committente che gli dava gli dava un tema e poi il pittore doveva cercare di soddisfare il committente con quel tema ma in realtà fare quello che voleva lui ecco se si riesce a trovare questa sintesi allora allora si c'è anche una soddisfazione senti dato che sei lo sei una figura di autore estremamente particolare ci sono dei tuoi colleghi contemporanei quindi che stanno facendo questo lavoro in questo momento come lo stai facendo tu che ti affascinano ti incuriosiscono autori dici sì non ne conosco abbastanza da poter rispondere e invece ne saranno sicuramente di bravissimi solo che non non frequentando molto non conosco molti autori per quel momento non ti saprei dire mentre invece interpreti giovani interpreti contemporanei che ti incuriosiscono su quali ti piacerebbe fare il sarto beh ci sono ci giovani giovani anche sui giovani anche relativamente giovani beh ad esempio si parlava prima di nicolo fabi è uno che che secondo me sta facendo un percorso molto interessante sia a livello di testi che a livello di a livello di arrangiamenti adesso mi viene in mente solo lui per il resto ascoltando talmente poco mi vengono in mente i nomi dei più famosi ma non non sono quelli con cui mi piacerebbe lavorare di solito mi mi interessano di più i vecchi anche perché c'era una maniera di scrivere diversa ma io ti parlo dei vecchi 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 nel senso che chiaramente le gente che adesso magari non fa più nulla ecco con quelli mi sarebbe piaciuto collaborare ti parlo di fossati ti parlo di di nomi che che ormai sono scomparsi tipo Bertoli secondo me era un grande insomma questi sono però dei tre giovanissimi sicuramente ci saranno delle cose interessanti però frequento poco pensavo che non hai parlato di musica straniera io quando indagavo sulle tue letture ho scoperto che sei un fan di Hemingway e Fante che sono due grandissimi narratori americani entrambi tra l'altro io non ho visto che c'erano americani quindi pensavo che non ti non hai parlato di musica straniera questa affascinazione verso cantautori del passato ce l'hai anche sul versante straniero ma sicuramente sì 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 parliamo di brass sense parliamo di coin parliamo di dylan però ci sono anche cose contemporanee che mi piacciono molto ad esempio i radiohead secondo me sono una band come dire eccezionale da tutti i punti di vista la loro sperimentazione sia a livello di testi che di musica è bellissima i dischi di johnny greenwood le colonne sonore stesse che ha fatto lui o la tom york anche quando lavora da solo sono sono veramente meravigliose ci sono ci sono tante cose interessanti e poi anche band più più datate i police ad esempio secondo me hanno aperto anche delle strade molto interessanti tutte cose di una certa beh insomma ottimi gusti ecco sì gusti senti fabio prima hai parlato che sei più appassionato di letteratura che di musica sei appassionato di immagine studiato arte hai mai pensato ci sono tanti i tuoi colleghi che al di là dell'attività musicale si cimentano nell'attività cinematografica nell'attività narrativa nell'attività artistica hai mai pensato anche tu di fare questo passo ma io in realtà con la pittura ho sempre c'è sempre stato un dialogo io fino fino a poco tempo fa facevo anche qualche mostra che poi era proprio un pretesto per mangiare bere in compagnia perché poi i dipinti anche lì va bene no per quanto riguarda invece l'idea di fare un video un documentario un film non ho le conoscenze magari affiancato da qualcuno sarebbe interessante magari fare una coscrittura sarebbe sarebbe interessante a me l'immagine piace molto mi piace l'idea di ad esempio di poter costruire dei video su eventuali miei brani che però siano quasi dei cortometraggi nel senso che i video che vedo io oggi non mi interessano nel senso che sono sempre dei quasi dei dei commenti di da scalici al testo tipo il cantante che canta cioè a me piacerebbe che uno vuole vedere questa questa questo video puoi anche spegnere la musica e guardarlo e basta deve poter raccontare che sta in piedi sulle sue gambe deve stare sì anche perché è una forma di linguaggio autonoma quindi non ha senso che diventi una stampella di un'altra forma di linguaggio in questa maniera potrebbe essere interessante hai già in mente qualcosa tipo io mi ricordo dei video non so quello di phil depende da un junior dove loro giocano golf in mezzo a new york cose strane tutte le avevano in mente cipria maresco da ecco a me piace quel mondo lì quel tipo di bianco e nero lì quella fotografia scabra si molto asciutto molto secco quasi espressionista non so come dire o neorealista mi piacerebbe un approccio del genere vedremo i clip delle del tuo brand del tuo album ci pensi per il tuo nuovo disco che farai che iniziare sicuramente sì fabio senti cosa manca secondo te la canzone oggi la canzone che che ascoltiamo in radio quella che quella non dei grandi classici che tutti noi abbiamo sulla sullo scaffale ma quella che che fruiamo anche non volendo io trovo che la canzone di oggi sia abbia un difetto che sia nel 90 per cento dei casi autoreferenziale che non ci sia uno sguardo ad esempio sul sociale sulla vita di tutti i giorni quindi secondo me manca questo proprio uno scandagliare il vissuto che non sia semplicemente il tuo il tuo il tuo punto di vista insomma secondo me manca questa cosa qui cioè uno sguardo che vada verso l'esterno che non sia sempre uno sguardo verso l'interno che io trovo di una noia è per quello che sono più legato a un certo tipo di musica un certo tipo di canzoni perché era proprio era più più che essere un cantatore proprio un canta storie no quindi raccontare le storie degli altri a me piacciono a me io sono curiosissimo delle vite degli altri sono proprio molto interessato a quello che fanno gli altri e secondo me è più interessante raccontare la vita degli altri che raccontare la propria almeno la mia è una vita di una noia vabbè ma è quasi un approccio da cronista ecco perché hai parlato di documentario prima quando ti ho detto film ma perché Hemingway è un grande perché lui era un cronista lui inizia come giornalista no e ha questa capacità di scrivere in maniera essenziale e la cosa che mi piace soprattutto che mi piace anche riportare nelle canzoni è la capacità di far muovere i personaggi affinché questi restituiscano un'emozione senza dover dire è innamorato è addolorato è arrabbiato quello lo devi far muovere quasi come un burattinaio no allora quello secondo me rende più reale perché se no è sempre realistico ma non è reale è difficile un lavoro continuo mi viene in mente una cosa che diceva Bukowski un altro un altro grande beh da Fante Bukowski passo è brevissimo infatti io Fante l'ho scoperto leggendo Bukowski e Céline uguale è vero hai letto Céline? sì ci sono certe cose cioè viaggio al termine della notte così poi ci sono altre cose diciamo un po' più estreme sì però quando tu leggi Céline e la scrittura di Céline lui è addirittura un inventore del linguaggio ad esempio guarda soltanto come usa la punteggiatura no? sì ecco cioè lì è riportare alla vita reale allora a quel punto la parola scompare l'autore scompare ecco cosa che dovrebbe succedere nelle canzoni dove si sente sempre l'autore c'è sempre questo ego che esonda tu devi scomparire dietro quello che scrivi tu non devi esistere sperirebbe anche la bella scrittura no? perché tanti dicono quello scrittore è bravo ma non è come lo racconti è quello che racconta giusto? è quello che racconti però anche come lo racconti nel senso che poi lì chiaramente entra in gioco il mestiere la capacità di usare la parola giusta al momento giusto ragionare su un aggettivo per un mese e mezzo perché solo quello però ecco quello secondo me è l'approccio interessante quello che ti stavo dicendo prima di Bukowski lui andava alle corse dei cavalli lo sai no? lui diceva leggere il giornale con i nomi dei cavalli legati l'essenzialità di quel tipo di scrittura che ti deve dare semplicemente una nozione e poi alla fine lui la riporta nella sua poesia infatti la sua poesia è essenziale senza parole esagerate addirittura mi ricordo una sua intervista dove lui legge una poesia e in un passaggio dice tu fai la testa nella notte e lui si scusa con il suo pubblico ubriaco lui marcio dice scusate errori di gioventù non avrei dovuto dire tu fai ma misi misi perché sennò sei il poeta che fa il poeta come l'attore che recita che è la cosa peggiore che ci sia insomma che quello che dicevamo prima della letterarietà come vizio come vezzo più esatto esatto fabio è stato davvero un piacere averti qui con noi a cantautore speriamo di rivederci presto e aspettiamo il tuo disco grazie a voi a presto